Se stai pensando di acquistare una fotocamera sicuramente avrai preso in considerazione l'ipotesi di acquistare un corpo macchina entry level con il vantaggio in dubbio di pagarlo molto meno rispetto a un corpo professionale. La domanda però è per quale motivo dovrei investire i miei soldi in qualcosa di più piccolo costruito in maniera più approssimativa e con delle performance nettamente inferiori che ben presto potrebbe stancarmi costringendomi a passare a un modello successivo con il risultato che in realtà invece di risparmiare avrei speso di più. Nel corso di questo video andiamo a rispondere alla domanda che mi ha fatto un iscritto sul canale. La domanda era comprare fotocamere entry level è da idioti? Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da diversi anni. Io possiedo qualche corpo entry level quindi se la risposta dovesse essere sì inevitabilmente sarei un idiota a mia volta perché comunque mi è capitato di acquistare dei corpi macchina dalle performance non proprio stellari. Nel corso di questo video andremo a vedere perché le ho comprate che cosa ci faccio se le utilizzo ancora e se consiglio questo tipo di acquisti anche a chi mi sta seguendo da casa. Prima di cominciare vi ricordo se questo tipo di argomenti solletica il vostro interesse di iscrivervi subito cliccando la campanella qui sotto perché io lo vedo che moltissimi di voi seguono tutti i miei contenuti e magari non sono iscritti con il risultato che poi ve ne perdete qualcuno e poi mi commentate chiedendomi una cosa che ho detto due video fa. È veramente un peccato perdiamo tempo tutti e due per cui cliccate qui sotto in maniera tale da risparmiare tempo e rimanere sempre aggiornati. Torniamo a bomba alla nostra piccola amica qui. Questa qui come potete vedere è un kit entry level che più di così si muore perché qui abbiamo una Canon EOS 550D quando è uscita era anche bellina adesso è un corpo macchina assolutamente superato io faccio molta fatica oggi a lavorare con una macchina come questa e la utilizzo solo in taluni contesti quindi fotografia di studio in luce controllata dove non entra in gioco la messa a fuoco perché la messa a fuoco di una macchina come questa non è performante non ci posso fare video cioè si fa i video ma li fa in una maniera tale che è meglio non farli vengono meglio col telefono oltretutto ci ho montato un'ottica sigma che è il 70 300 di cui ho parlato qualche video fa per questo vi dico di iscrivervi perché poi c'è un collegamento ne ho parlato qualche video fa un'ottica che secondo me sottoperforma sotto tutti i punti di vista l'unica cosa su cui performa veramente bene sono le dimensioni e tutto il resto francamente a me non ha convinto per niente ma allora perché ce l'ho perché dovremmo investire i nostri soldi in una strumentazione di questo tipo cominciamo col fare qualche considerazione innanzitutto partiamo dal concetto stesso di entry level che cos'è una fotocamera entry level facciamo un bel distinguo esistono i professionisti che si comprano l'ammiraglia la top di gamma la macchina super bella e poi esiste il resto del mondo e il resto del mondo potrebbe non avere voglia o necessità o possibilità economica o tutte e tre le cose di comprare esattamente la stessa cosa la sto facendo ovviamente molto semplice perché poi è pieno di grigi in mezzo a questi bianchi e questi neri quindi esistono professionisti di fascia alta di fascia media di fascia bassa esistono esordienti totali amatori amatori evoluti e quindi tutti quanti poi vanno a buttarsi in questo calderone di mercato fotografico e comprano quello che meglio risponde alle loro esigenze dunque chi è che dovrebbe comprare un corpo macchina entry level sicuramente un principiante esordiente totale secondo me fa un favore a se stesso al suo portafogli e anche all'eventuale fotocamera nel momento in cui decide di acquistare una macchina non troppo costosa questo per almeno due ottimi motivi il primo motivo è che vai a comprare una cosa che costa di meno e essendo tu un esordiente totale se scopri che non ti piace non ti diverti non hai speso tanti soldi nei spesi pochi una spesa contenuta e quindi non c'è da strapparsi i capelli il secondo motivo è che acquistare la macchina della vita come prima macchina significa che probabilmente gran parte della vita di questa macchina la passeremo a imparare a usarla e questo è un peccato imparare a usare una macchina professionale super costosa è un peccato perché la vita delle macchine fotografiche non è eterna quindi è meglio imparare su un corpo che costa meno e poi passare a qualcosa di più progredito inoltre c'è anche da dire che queste simpatiche signore per certe tipologie di foto performano tutto sommato abbastanza bene e nel corso di questo video vado proprio a farvi un paio di esempi esistono dei contesti in cui questa non sfigura non totalmente almeno contro una macchina professionale e sì perché dobbiamo andare a capire quali sono le caratteristiche di una macchina professionale allora sicuramente oggi una macchina professionale rispetto a una macchinina come questa quello che ci dà in più sono prestazioni in termini di autofocus gamma dinamica sensibilità ad alti iso quindi una macchina moderna come può essere la mia r6 ovviamente se la mangia a colazione questa e se la mangia a colazione perché riesce a mettere a fuoco anche al buio riesce a mettere a fuoco più rapidamente riesce a mettere a fuoco in contesti più difficili dove con questa non riusciremo mai a mettere a fuoco quello che vogliamo quindi il primo punto a favore di una macchina più prestazionale rispetto a un entry level è proprio la possibilità di riuscire a fare quella foto una macchina professionale ti mette in grado di scattare la foto di qualcosa che si muove anche in rapido movimento anche al buio laddove con un entry level probabilmente non ce la faresti o comunque faresti più fatica il secondo punto ovviamente è la qualità perché è inutile girarci intorno c'è anche una differenza di qualità una macchina entry level non ha la stessa qualità la stessa pasta magari anche la stessa profondità colore rispetto a una macchina professionale c'è sempre qualcosina in più e soprattutto una macchina professionale mantiene una qualità d'immagine decorosa anche nel momento in cui fa fatica anche nel momento in cui c'è poca luce infatti il punto dolente di una macchina come questa oltre all'autofocus la qualità non è neanche mai oltre all'autofocus è proprio la tolleranza ad altiso oltretutto questa è una macchina psc la maggior parte delle entry level sono a psc questo vale per canon soprattutto ma vale anche per nikon vale anche per alcuni modelli di sony poi ci sono eccezioni a questa regola però sono brand che occupano fasce di mercato diverse io mi concentrerei su queste dunque abbiamo detto che una macchina fotografica professionale o comunque più prestazionale distrugge le nostre piccole entry level dal punto di vista della messa a fuoco della sensibilità ad altiso e si mettiamoci dentro anche l'impermeabilità la tropicalizzazione e la resistenza agli urti perché comunque i materiali sono diversi però adesso prendiamo in considerazione un caso un po diverso diciamo che io prendo questa piccola macchina la metto su un treppiede con un grandangolo e scatto una fotografia di paesaggio con i miei filtrini quindi faccio tutte le mie cose fatte bene con il mio comando remoto quindi sto scattando bene e diciamo che faccio una fotografia di paesaggio all'ora d'oro all'ora blu quello che mi pare con un'esposizione controllata e diciamo che parallelamente faccio la stessa foto con una macchina più professionale a questo punto la differenza si vede ancora così tanto beh ragazzi la risposta è no la differenza non si vede più così tanto ovvio che permane una differenza nel senso che la risoluzione sarà diversa nel senso magari che la profondità colore rimane diversa però prendendo in considerazione una fotografia fatta in un contesto ottimale con una fotocamera entry level la differenza diventa quasi difficile da cogliere anche perché molto fa l'ottica che andiamo a mettere davanti al nostro sensore quindi a parità di ottica se scattiamo in un contesto ideale con una macchina professionale e con una macchina entry level il risultato non è così facile da distinguere soprattutto un amatore che comincia il suo viaggio nel mondo fotografico con un entry level probabilmente non la capirebbe questa differenza ed ecco che qui dobbiamo fare la prima considerazione il mercato dell'entry level ha assolutamente senso perché ci sono persone che fanno un genere fotografico hanno un contesto fotografico o comunque sviluppano la loro passione in un ambito in cui una professionale non gli serve vi faccio anche l'esempio mio io non prendo una miraglia perché per il mio lavoro non mi serve quindi io non ho bisogno di spendere 10.000 euro per una macchina fotografica mi basta spenderne 2.000 talvolta anche 1.400 e io ho una macchina fotografica con cui so che faccio il mio lavoro andiamo a prendere un altro contesto che è una cosa molto frequente io prendo questa fotocamera magari anche proprio con quest'ottica e la utilizzo per fare ritratto diurno non ci sono grossi problemi ragazzi perché per fare ritratto diurno è una cosa che ho fatto con questa macchina non ci sono problemi nel senso che c'è luce quindi il sensore apsc non fa tutta questa fatica scattiamo tra iso 100 e 400 la macchina ha una performance perfetta gamma dinamica accettabile nitidezza assolutamente nella norma ecco che improvvisamente se scattiamo con questa o con una professionale sì certo ci può essere una differenza di profondità di campo a differenza di bocchè una differenza di colorimetria i colori di una professionale molto probabilmente saranno più belli però è una cosa che minimamente